Pasqualino, come stai? Abbiamo ricevuto la segnalazione da alcuni abitanti del quadrivio che vedevano da tempo, da mesi, questo asinello e anche dei cavalli attaccati a una cortissima fune sotto l'acqua, sotto il vento, sotto la pioggia, sotto il sole. Erano sì alimentati, ogni due giorni veniva qualcuno a lasciargli da mangiare, però erano attaccati sempre alla corda, non poteva dormire, non poteva neanche muoversi. Lasciato così allo stato di abbandono? Sì, perfettamente, abbiamo fatto, dopo la segnalazione siamo regati sul posto, abbiamo fatto un video, abbiamo mandato anche a stoppa di striscia la notizia e poi vedendo che non arrivava nessuno, mossi a compassione, mossi a compassione abbiamo chiamato l'ASP e la polizia locale che ha fatto un blitz la scorsa settimana e ha liberato la sinera. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.